Chiara Ferragni, più social che mai, si è buttata a capofitto nei trend virali lanciando frecciatine a Fedez. Fra i suoi ultimi post anche un video in cui piange con scritto, ridotta così leggendo tutte le storie di questo trend. Il trend in questione mostra video e foto di coppiette innamorate. Il video è immediatamente diventato virale e fra i commenti anche un like di Chiara Ferragni a un utente che le scrive Chiara lo farai fra poco con Giacobbe Lordi. Il riferimento all'attore è dovuto al fatto che una volta la stessa Chiara lo catalogò come l'uomo più attraente del pianeta, destando la gelosia di Fedez. Adesso il suo nome è citatissimo tra i commenti sotto ai post dell'influencer. Chissà che non potrà nascere qualcosa tra i due. Chissà che non potrà.